avvia lo scontro allora io mi prendo il cacciofone vediamo sta live come cavolo si avviamo seleziono un eroe l'ho selezionato che cancer che sei no valkyrie tieni premuto per andare avanti dove c'è scritto inizia non lo vedo oh furono dal vivo guardiamo 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 stai in ritardo ah ma non potevamo mettere pure i botti no ma perché? dovevi mettervi? eh vabbè dai togli la live sto impazzendo no no non dico te dico la wirm togli l'audio almeno poi ci facciamo due risate ma tolta tolta lol faccio per dire quanto sono un hub speriamo che non ci rompono le pali i bot dopo metti mischia comunque ok ah no ma siamo dominio ah no ah c'è un duello eh non ti ho pure in un duello no vabbè ok oh in cin cinci ah no il nine no aspetta non ci sento no guarda è banale questo come quale sono io vieni di qua dai come zona avversa io ne avevo perso la zona con queste torre oddio la vendetta la vendetta chi è un bot questo no sono loro ah lol sembrava nambo ok ho finito la stamina è morto no è pochissima con gli animali ok arrivo degli altri dobbiamo conquistare le zone le animazioni come ho rifiutato la rianimazione cazzo dici ma che due maroni è fatto bene sinceramente è fatto bene come gioco però ci ho capito ok ci sono unina ho conquistato 100 punti 4 ma quanti ne sono oddio 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 un po' troppi la madonna quanta gente troppa gente troppa gente oddio oddio mi hai shottato mi hai shottato cambiamo cambiamo ragazzi cos'è cos'è sta cosa incasinata teni premuto devo andare in mischia così siamo due di due rientrata al 57 secondi oh mamma mia hai shottato in testa comunque mi stiamo orando è uguale puoi rientrare subito e come faccio a rientrare subito c'è scritto come zona contenta dove sei ah f***a ok questo ah ma c'è ma c'è ma c'è si è un bot questo ah va allora vai poca vita va vai io lo butto giù ok vai esecuzione va 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 lo buttavo giù 10 oggi non è quello sì un razzatore aspetta la cura se me ne fece ok è morta easy abbiamo conquistato un'aria andiamo non l'avete conquistata è ancora nostra lol esatto la stamina la stamina la stamina what madonna ok è morto bravo oddio chi è questo sciamana morta dai oia la odio quella mosse noi ma chi era questo ma perché il mio compagno è ammazzato che schifo cioè neanche i temi c'è vabbè non riesco a far niente ah rippe c'è mi ha ammazzato il compagno hai catturato la zona c zona c oh andiamo in c si si ma io faccio culo a tutti avete tutti i cavalieri nella mischia è un bisogno basta allontanati allontanati oh sono in tre qua eh allontanati allontanati eravati in tre strep è uno c c no ecco qui è stato zona c hai perso la zona c hai perso la a hai perso la c hai perso la a hai perso la a hai perso la c c'è in a che sto dando fastidio al mio amico io mi butto nella mischia andiamo a vai si siete in due grazie va bene no oddio erivo a caso ora ragazzi sto facendo una strage di sti botta fa due a due le sto tre quattro cinque la volta un bot è fatto il più più di me hai perso la zona a e dai lo pensa ve lo fai dei kill arrivo no ho già sfiorato l'ascia si wow adesso ti dice ma ho ammazzato un'altra dove che altre fai non ti aggancia ok oddio si conto tre persone oddio c'è l'altro l'altro mi ha stonato ma che sono questi non riescono mai ecco pizza passa si chiama dai dai il bot che si chiama pizza passa no davvero guarda si da voi lol the boys da noi pizza passa mi sta un attimo rompendo anche le palle però no la squadra nemica è in rotta siamo rotta siamo rotta siamo rotta ho capito che siamo in rotta a vivo che quello sia sono morto non dove credo ma è pochissà vita morto perfetto 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 ok stiamo caricando ammazziamo l'altro quale e mezzo viene a viene a hai perso la zona c vai mi piace mi piace che casino mangi da vicino bella che è buona l'altro amico dove l'altro no 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 dobbiamo bloccare A devo bloccare A se no andiamo 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 se no ne sono più rotta ah no sono ancora in rotta dobbiamo prendere altre zone se no l'altro 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 qui sopra ultimo pochissima vita aspetta gli butto ma se no cazzo anche adesso mi rotto ho esecuzione pam pam ok resta solo pizza pazza hai perso la zona ok è in mezzo in mezzo andiamo andiamo entra entra vai morta perfetto bello 15 battimenti lol wow i bot non fate più di me 15 battimenti modalità mischia bottino scontro no questa non è mischia e dominio e mettere allora cambio opzioni modalità di gioco mischia duello mischia no no metti mischia metti mischia mischia 2 contro 2 ah si si andata inizio 2v2 io mi ero contro lol oddio ndt vs inox è che io qua mi muto il lenino si si però non c'è inizio però si sopra sopra la verità ma ok se le ciente esci la segnala indietro no dove cavolo sta inizio panoramica casuale seleziona un eroe l'ho già selezionato va bene ah ok conferma oh eh vabbè no è la prima volta che ci gioco conferma come si parla come si parla tutte e due uguali tutti e due stizieri eh però tutti e due uguali non è proprio il massimo eh vabbè vuoi madonna che poi ce l'ho a livello 5 questo quindi figuriamoci puoi? aspetta ah dopo fa come ho capito dai dopo fa come rainbow six devi aspettare che carica olle oh che belli siamo due grossi contro due piccoli oh che belli siamo due grossi contro due piccoli no no due piccoli ah qua 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 non si può buttare giù la gente quindi no mi piace eh riuscirò a colpire però oddio hai paura o qua? oddio odio 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 amm eh dai non misi tira indietro questo carciofone e' solo grosso questo carciofone oddio di lascere solo eh vije comunque del questoà e dietro Come sono morto? Come sono morto? Mi si è fatto un battere, mi si è trovato due contro uno Si è ucciso Maxi, mi sa Questo carciofo non, sto carciofone non indietreggio Oddio Questo carciofone? Chi è questo? Chi è questo? Skirre No, a me è venenato Ok, è già morto È bello che non mi è neanche attaccato una volta Oddio mi fai culo Eh ma così È due contro uno Come? Esecuzione So capito che è esecuzione Ma non è che fate l'esecuzione Guardate un attimo la vita Dai Tom, mi tieni in alto il nostro Vai che c'è FF Mix F Eh vabbè E' stata brava Quanto perdiamo di bello? Ti voglio un po' salti No, no, no Dai, Wilmer Non facciamo i cani Oddio Ok, è morto Oddio Ma Ma Quattro colpi Mi stunna poi mi ammazzo No What? Come ho fatto a chiedere? Non mi si è capito Eh, sei inceppato sul corpo di Wilmer Ah no Eh Ti reggia sto carciofo Tirati indietro Carciofo Dai E' mezz'ora che sto premendo sta cazzo di barra Non lo sapevo che potrei che carico di tante volte Tipo lì con Fletcher Per ballare Come cazzo è che non mi si dire indietro Con cazzo di carciofo C'è solo troppo È un altro Un altro Un altro Un altro Un altro Cambio Cambio Non prendere di carciofo Allora E' infatti Cambio Allora Seleziona Proviamo un qualcosa di diverso Ok Ho avuto Cos'è? Ah no Mi schiaffo No Non mi ha fatto cambiare Non mi ha fatto cambiare il carciofo Ma va a fanculo Lo cambiare Ecco Andiamo Cambiamo canale Ah eccolo Ah abbiamo canale Andiamo a professe Sì Cambio anche tizio Eroi Andiamo Personizzata Team Arf Abbastanza uno Abbastanza uno No no Personizzata Team Arf Più figo Ok Squadra uguali Squadra uguali Che figura da cioccolata Dai Torni 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 André Chi è che è morto? Puoi rianimarmi Dove sei? Come ti rianimano che mi devo difendere da questi due? Vai Premi il tasto che è venuto fuori Eh vabbè Premo il tasto Come facevo a premere il tasto che mi hanno massacrato in mezzo Secondo round Come hai fatto a morire? Eh mi hanno ucciso WTF WTF L'ho massato in gage WTF 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 Non mi si tira indietro guarda 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 che non mi si tira indietro Ma porca 2 a 1 2 a 1 2 a 1 è tutta da giocare Dai Quarto round Quarto round Guarda Guarda il scappo ehi vabbè ehi vabbè dietro ehi vabbè se ce la fai in animarmi ti do una mano eh ci ha provato eh lo so ho visto eh buongiorno buongiorno la tattica fa schifo fai schifo dobbiamo migliorare la tattica è quello che manca manca la tattica adesso mi metto anch'io a scappare lol aspettavo che mi arruttavo così io morivi come sono molto più ma io tramonto dai lo proviamo a prendere io provo un eroe che non utilizzo vediamo che succede è difficile usare quello eh lo so non lo utilizzo quasi mai poi neanche io non può usarlo adesso vado andrei che cazzo quello lì eh vabbè prima volta che lo uso eh 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 c'è lo scudo vediamo un po' eh ma è molto difficile usare andiamo su ehm andiamo su ah ah è rimasto a dire opps però io la valchiera odio eh no ti vado di su carciopo maledetto ti vado di su carciopo maledetto ti vado di su carciopo maledetto vittoria secondo round vado di su carciopo maledetto guardalo eh no oh mi ha buttato in acqua sconfitta ma che due maloni avevo vinto mi ha buttato in acqua terzo round dai dai un'altra volta dai un'altra volta eh 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 Sì Dai ce l'avevi quasi fatta Io lì non ci vado più Non ho fatto un'altra volta in acqua no Il tuo carciofo con tutta quella cazzo di armatura affonda Non ho fatto un po' Non ho fatto un po' Non indietreggia, non indietreggia Buttali in acqua, buttali in acqua Eh come faccio Senza vita Ehi Buongiorno Ci stiamo provando Sempre Andrea Lo sono finito 50 volte in acqua La cazzo di armatura affonda Cazzo il giubbotto salva gente Nessuno ce l'ha Poi quando ti ho spinto a te Wyrm Adesso va giù Invece no Si infine nell'angolino No no togliamo le macche con l'acqua Mettiamo quello dei geyser Io faccio l'ultima Eh qua c'è il vuoto Mi ha tolto l'acqua Dovevo prendo Oddio la so Che prendo Dovevo prendo la m usata Lo saliamo Ok Oddio, stavo nel tantissimo soldi Buh Ciao Dome Sto giocando a Forodor con Andrea Stiamo perdendo di brutto A Forodor Eh si Stiamo perdendo di brutto Ma che zom mi fa giocare Tostiera Primo round Lui gioca, lui gioca Perché state perdendo? Eh si Eh perché si Non ci riesce a carriare Oh madonna Cento madonna Penso che mi vada a vedere un film Ok Già hai perso Sconfitta Già hai perso Tommy Tommy non è come già hai perso Secondo round Dov'è vedere se si vede bene No Non si vede Perché mi escono le pubblicità dei partner Noi non capisco Io mi sono visto a Sting Sting Il cartone di Matla Oh ce l'abbiamo fatta Quello dei maiali che ballano Oh ce l'abbiamo fatta per un miracolo Che giochi tu Andrè Ma forno no Stiamo giocando Eh che gioca Che personaggio giochi Cosa hai scelto Tra i tre Ma io ne sono Questa ancora scegliendo Come sta ancora scegliendo Ah dici tra le frazze Tra i due cavalieri Eh Rischiii Vabbè Mi saluta Ciao ciao Oddio Non cadere giù Non cadere giù Tira tì Tira tì Un carciofo Un carciofo Eddio Buono Scarciofato Ma dai Ma dai Mi sono carciofato giù Ma che due maroni Quarto round Andrè Andrè No Andrè L'ho perso Perfetto Ma come Non mi ha dato neanche il tempo di respirare C'è quella cazzo di mazza lunga lì Ma perché non cade? Perché non cade? Perché non cade? Perché non cade? Avevo quasi vinto Mi sono carciofato giù Cioè Volato giù Volato Sì Sì ma tanto c'era ancora io vivo Quindi era Ma una mappa tranquilla non c'è Io che prendo tempo E mi metto a ballare Ma la prima mappa che avevamo messo Quella Dei cavalieri Quella non c'è a nessun punto dove puoi cadere No Gerio Ho paura che Butto giù No Perché Dexter manda le foto di Tony Cioè abbiamo fatto una figura da cioccolataio live Vai allo scontro Ma io lo sto usando tutti Non ho anche quelli che non ho mai usato Molto probabilmente perderemo con quello che sto prendendo adesso Oddio E infatti E saliamo saliamo Sì Minchia un altro grosso con armato Fina sopra i denti E che Ma io non ce l'ho tutti sti personaggi A parte tutto La tua abilità Più bassa di allenato Di alleato No più bassa di alleato Non allenato Va bene lo stesso Primo round Sono contro il ciccione Ahia Non ci fermate Maledetti Dai Ce l'avevo quasi fatta Sei solo Che fai scappi? Ci provo Sì guarda là C'ha una mazza Quello Non tocca a me il ciccione Non tocca a me il ciccione Sì ma mi si ammoscia sto coso Vittoria Eee Basta 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 Ma perché mi si ammoscia sto coso Ma perché mi si ammoccia sto coso? Ma perché mi si ammoccia sto coso? Basta Via Corri 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 arrivo come me non me si voleva io non sono buono ad usare quello di madonna mai usato il matrimon della toccata il fuga che ti ho fatto devo cambiare tizio comunque a me il primo rando con quel città nemmeno è bastato ma io non lo so usare se come funzioni aspetta e salisse valendo la live ed ero fk mi era venuto il dubbio che alcuni colpi di brava ha capito allora non voi c'è io te li ho parati tutti però poi boh mi fai lo stesso saliamo più che altro perché quando io colpisco i tu pari faccio danno comunque sì infatti quindi continuiamo a colpire anche sui parami saliamo il sì sì miga che spadoni dobbiamo andare tutti e due contro uno tommy eh però poi arriva l'altra da dietro non fa niente ne uccidiamo uno ok andiamo tutti e due andiamo tutti e due contro quello che c'hai tu primo round oddio è piccolissima sta arena eh vedi cosa di già dai per un pelo è la madonna ottimo combattimento vedi che è già andato meglio già ne abbiamo colpito secondo secondo cazzo ho malato manco il tempo di respirare hai finito non mollare grande grande coria questo fa sempre un po' male terzo round mi hai colpito tu scusa dai ho sbagliato tasto che pirla sbagliato erano tutti due morti che cazzo ho premuto mi è venuto fuori il mh quarto round e questo sarebbe uno scu... che cazzo non ne per un ucciso che cazzo anche in un ucciso non ne per due anche in un ucciso a un ucciso cazzo nasce Cazzo stava in mezzo! Se sta uccidendo a me tu colpisci no? Ma stai bene? Dai cazzo non mi ha dato neanche il tempo di respirare Eh questa è persa E invece Dai No Facciamo un'altra? No io adesso vado In effetti si a mezzanotte e mezza Eh si Sarebbe anche ora Dai vediamo se scendono giù gli altri Mi lasci da solo Eh No adesso che vado Ehi Oh Sei con il bot fra No usciamo Sarà solo come faccio No sei con il bot Vengo con te vengo con te Vengo con te vengo con te Vengo con il bot Proviamo Vengo con te vengo con il bot No Vengo con il bot Vengo con te vengo con il bot Vengo con te 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 v ritorno xd 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 xxd innamorati che noob i robot dai bot proprio grande andre me lo prendo io il bot se li prendi tu wirma ci rincontriamo a duello come abbiamo fatto oggi penso che cazzo non mi indietreggia bella muota oh andrea ti vengo a dare una mano ok buona che brutto che brutto non la senti che scolimpio la lol lasciatemi one v one piece devi chiedere al tuo bot che ti lasci uno o devi chiedere andre ma chiuso nell'angolo esecuzione arrivo tra i what grande andre no no non ciò parare si ogni tanto lo fa anche a me questo ti insegnerà no c'è io non ciò parare poi allora scrivo e se non riesci a parare ecco adesso io il bot contro voi due dopo andre contro anzi oppure andiamo a fare poco cos'altro cosa cioè facciamo un minimo andiamo un po' un'altra mappa giusto per no tipo un'altra modalità adesso io con il bot contro voi due dopo andre con il bot contro noi due no ma se facciamo un'altra modalità se cambiamo un'altra modalità modalità di gioco ma allora andiamo molti giocatori così almeno eh sì sì infatti è fatto no perché è molto sfidato quello che il bot è perdita di sicuro molti giocatore si molti giocatori si vai su battaglia e vai su dominio battaglia dominio samurai king no no vai su battaglia e vai su sketch e battaglia e poi vai su dominio tributo e dominio mi sta facendo tutta una spiegazione qua ma ah sì perché non sei mai andato in molti giocatori no mai allora successivo battaglia poi e dominio quindi non vai tributo vai di fianco che c'è dominio tributo sì ok no no vai dominio 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 sì sì ok e poi partire gioca vado a prendere la bottiglia vado a prendere la bottiglia e questo come funziona? allora ci sono tre zone a b e c e tu devi catturarle poi vinci quando la squadra nemica è rotta cioè non possono più respawnare e quindi li uccidi tutti e e e e e prendo rocci e un attimo posso andare su persona o no fanno due rocci un verse se male oh oh guarda è quello con quattro di notorietà quello con quattro di notorietà ci fa ma già cominciato errore ritorno al menu è uscito cosa cazzo cosa cazzo è successo? eh prendiamoci mi ha mi ha cacciato fuori mi ha detto c'è stato un errore di rete e mi ha buttato fuori prova a ricollegarti a dove cavolo sono finito cosa duello cos'è? primo diversi che ok e di anima e di anima ah no no arrivo allora tranquillo ci sono io cazzo ok bravo bello tirai giù il ponte quindi riesce di entrare apri 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 vai appena sono sopra devi buttarla giù ok si non riesco sopra non riesco sopra non riesco sopra non riesco sopra oh si è aperta ah no si 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 è aperta eh riesce bo cioè ad entrare si stavo giocando online prima però c'è stato un errore dove hai fatto qualcosa con la playstation non ne so l'ho buttato fuori errore di rete ma data sto imparando uno rocci dentro ci adivo anzi culo l'amico si tanto è morto perfetto facciamo 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 prendere vita si perfetto oh 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 oddio mi sono buttato da sopra e l'ho ucciso l'ho visto ah sono morto c'è la scuola il nostro bot fa un po' che ieri il nostro bot Andre non riesce a entrare oh ci 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 si o mix cioè max e discutiamo cosa e si si aspetta un attimo vuole prendere un attimo ci 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 ha ucciso quaffetto oh ora c vittoria o due rocci o sì ma io come la mano o muoio anzi giustizio bravo devo andare a prendere vita dentro io o andiamo o andiamo no me l'ho aperto la trappola sotto che sfiga